volendo delle aziende per fare per voi la prima, per fare tutto quanto può essere non convenzionale in una presentazione di un evento, quindi rilasciate pure a certe macchie che avrete dei vantaggi insomma intendo di questo modo secondo me di rispettare la sala dell'evento assolutamente per fare un'evento assolutamente Grazie. 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 Grazie.